Questa corte giudica l'imputato colpevole dei reati di vilipendio, oltraggio al pubblico decoro. Obiezione! Vostro onore! Ma non può obiettare, stiamo già leggendo la sentenza. Sì, lo so, ma il mio cliente è pentito. Ascolti, la legge è uguale per tutti. Ma basta con questi modi di dire, vostro onore. Cosa direbbe sua madre? Cosa direbbe la sua catechista? Non le ha forse insegnato la parola di nostro signore? Che bisogna perdonare chi è veramente pentito? Il mio cliente lo è. E per chiedere scusa ai suoi accusatori, gli onorevoli Meloni, Salvini e Renzi, nonché alla comunità tutta, ha scritto un nuovo pezzo. Un pezzo che potremmo definire family friendly. Grazie!